Alla vista degli agenti ha tentato subito la fuga, ma è stato fermato e denunciato. In tasca infatti aveva nascosto 18 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio. È successo nel quartiere di Saione, ad Arezzo, nei guai, è finito un 33enne originario del Gambia. L'operazione della Polizia Municipale Aretina infatti si è concentrata nel quartiere. Gli agenti, mentre stavano effettuando la verifica dei documenti di alcuni cittadini extracomunitari all'interno del parco del Colle del Pionta, Piazza Zucchi e Giardini di Campo di Marte, hanno notato davanti ad un supermercato della zona un uomo che alla vista della pattuglia ha cercato di scappare. È stato immediatamente fermato. Impossibile però l'identificazione in quanto sprovvisto di documenti. La Polizia Municipale allora ha proceduto con la perquisizione. All'interno di una tasca del giubbotto sono stati così trovati sette involucri contenenti 18 grammi di marijuana. Il 33enne è stato accompagnato presso il gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Arezzo per procedere alla sua identificazione e sottoporre la sostanza al narcotest che ha dato esito positivo. La droga è stata così sequestrata, l'uomo è stato invece denunciato per spaccio.